Avevamo già il match point la scorsa, ci siamo riusciti a vincere ma va bene così, è stato bellissimo qua con tutti i tifosi, c'è stata una festa qua dietro la telecamera, bellissima, siamo partiti con questo obiettivo, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta e sono contenti che ora ce lo dobbiamo perché ce lo siamo arrivati. Avete fatto un passo molto importante, l'anno scorso vi siete giocati i playoff, quest'anno vi siete giocati il campionato, alla fine l'avete vinto e ti chiedo come sono stati questi due anni. Sono stati diversi perché l'anno scorso eravamo una neopromossa quindi volevamo mantenere la categoria, abbiamo preso qualche giocatore importante però non pensavamo di andar così bene. Siamo stati un passo per la promozione e quest'anno avevamo più consapevolezza e noi ci siamo fatti per vincerlo e infatti sono stati i primi praticamente dalla seconda giornata in poi e quindi sono stati due campionati diversi. Siamo cresciuti come squadra secondo me, come consapevolezza, come pubblicità e comunque ci è sempre stato, questa è la nostra gianna. Come ci si sente in Serie B? Beh, se ci sente bene, ora cerchiamo di far mente locale, festeggiamo e poi vediamo l'anno prossimo. Dai, ti lasciamo festeggiare, grazie.